Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Grazie a tutti! Una serie, potrebbe, ma è sicuramente l'epifania di una nuova epoca per risolto giallo, perché lo scrittore Mauro Biagini oggi incontra la lettrice Elisabetta Seregni. Benvenuti! Grazie Alessia! Grazie! E buongiorno a tutti! Allora, Rewind! Mauro, lo avete già visto, è già stato nostro ospite, è uno scrittore molto prolifico. Elisabetta è una sua affezionata lettrice. Infatti, sta ma pazza da un chile e mezzo l'ha portata Elisabetta. Elisabetta non è però un lettore, diciamo così, ordinario, perché è una mia collega. Quindi, attenzione, perché oggi assisteremo al loro dialogo e sarà magari anche a tratti un po' elettrico, perché Elisabetta, come me, conosce perfettamente la procedura penale. Partiamo dall'inizio. Come vi siete conosciuti, ragazzi? Elisabetta, parli... In libreria, in realtà. In libreria. Quale, possiamo dirlo? Il Libraccio di Via Vittorio Veneto, che secondo me è la nostra seconda casa, perché lui lo incontri spesso. Io ci vado spesso, sono un'ottima cliente. Ah! E quindi... E tu che ci fai, invece? Sei un'ottima cliente anche tu? Beh, il Libraccio, per me, è quasi una tappa obbligata delle mie uscite, anche delle mie uscite col cane, perché comunque, oltre eventualmente ad acquistare libri, è anche stupendo andare a sbirciare nell'usato. Non so, Elisabetta, cosa ne pensi tu dove si trovano delle chicche? Elisabetta l'ho conosciuta a Libraccio e poi da allora ci si incrocia anche nei supermercati. No, era una presentazione, sì, e quindi, vabbè, io mi sono avvicinata e poi, per l'amore per Porta Venezia, ci siamo uniti, diciamo, in questa cosa. Ci incontriamo anche per strada, nei nostri giri, perché io, abitando in zona, mi capita spesso di imbattermi in Mauro Biagini. E il cane. E l'impareggiabile cane. E la mamma, ogni tanto, nelle foto lo vediamo anche con la sua mamma. Ogni tanto arriva anche lei, sì. A questo proposito, voi ricorderete forse che nella scorsa puntata, dove era stato ospite nostro Mauro, lui espresse il desiderio di tumulare nella prossima avventura, che stava per scrivere, qualcuno, qualche abitante della zona. Io incontrai Elisabetta in tribunale e dissi, vuoi candidarti con Mauro? In realtà, poi, come vedremo dall'ultimo nato, la storia è un po' diversa. Però partiamo da Porta Venezia, partiamo da qui. Voi sapete, Mauro, ambienta qui. Elisabetta, tu sei originaria di questo quartiere? No. Ci sei arrivata? Ci sono arrivata una decina di anni fa e sono molto felice di abitare in una casa che amo molto. E poi in una zona che è davvero molto vivace, è un po' pop, ha tanti risvolti interessanti, ci sono un sacco di servizi, è una zona, secondo me, molto bella, anche da un punto di vista architettonico. Passeggiare per Porta Venezia è un gran piacere. Poi c'è il parco, che è una grande risorsa. Qui, perdonami Mauro, ma glielo devo chiedere subito, poi lascio la parola a te e al tuo neonato libro. Mauro, riconosci il quartiere nelle pagine di Mauro? Assolutamente sì, è un elemento che a me piace tantissimo perché io passeggio con i suoi personaggi, riconosco le case, riconosco le vie, gli edifici, anche i negozianti, se vogliamo. Quando lui fa proprio dei riferimenti concreti, io... Ma falli, 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 perché l'abbiamo letto tutti. Beh, la magliaia Delia è... vabbè, c'è un negozio dove... C'era, sì. C'era, ah, allora me lo sono... ha chiuso? Sì, sì. Ecco, comunque c'era questo negozio. Tu hai fatto in tempo a vederlo. Sì, 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 beh, tutti l'hanno visto in via Pampilo Castaldi, sì, sì. Che vendeva lana? Faceva, vendeva un po' delle sue cose. Sì, vendeva cose sue, riparazioni sartoriali. E poi aveva in vetrina i libri di Mauro. Ah, vabbè, ovviamente. Perché è la musa ispiratrice e poi anche le fattezze... Sì, e anche le fattezze. Poi non il comportamento, dove mi sento libero naturalmente di... Ah, sì, però... Quindi il fatto che abbia chiuso adesso è un impasse per te o continua a vivere nei tuoi ricordi? No, perché per me è curioso quanto lei sia stata una musa ispiratrice, ma nello stesso tempo quanto poi questo personaggio io lo abbia in qualche modo ricreato dentro di me, per cui oramai esiste la magliaia Delia, indipendentemente da chi la... Si chiamava proprio Delia? Sì, sì. No, lei non si chiamava Delia, sì. Cioè, non la magliaia delia nel libro. Sì, sì. Il libro si chiama sempre così. Quindi il quartiere è ben dipinto, ben riprodotto. Sì, ma anche nell'ultimo, secondo me, sull'hotel Diana c'è proprio una descrizione precisa, dettagliata e puntuale. Poi vabbè, non voglio spoilerare. Vabbè, voi lo sapete, noi siamo milanesi, all'hotel Diana ci abbiamo fatto mille mila aperitivi, quindi possiamo dire di riconoscere i luoghi senza per forza essere stati ospiti, anche perché penso ci voglia un mutuo per passare una notte all'hotel Diana. Ma infatti io non mi riferisco alle stanze, cioè all'ingresso. Il parco. Io ho addirittura un parente che ha fatto la cena di nozze all'hotel Diana. Beh, farsi un aperitivo nel giardino dell'hotel Diana è un'esperienza sempre magica, devo dire. Bellissimo. Allora, Elisabetta, aiutami che qui sei la nostra memoria storica. Io li ho messi in ordine. La tua è quella lì. Quella. Primo, tu correggimi. Ma grazie, Elisabetta. Secondo, che è il mio preferito e l'ho detto anche a Biagini. Poi, terzo. E poi, secondo me, anche questo al suo perché. Il giovane. L'ultimo. Facciamo rewind, perché io conosco Mauro dal terzo e tu invece hai letto anche i primi due. Sì. E ci dicevi che il tuo preferito è il secondo. Sì. Tu lo hai conosciuto in ordine cronologico? O sei partita anche tu dal mezzo? Io sono partita da qui e qui quando ho conosciuto alla presentazione del libro, al libraccio di cui dicevo prima. E poi sono tornata indietro quando li ho trovati, perché questo ha fatto pure fatica a trovarlo. Ecco perché io non ce li ho. Perché mi ricordo che non li trovavo. Eh sì, perché questo ho dovuto prenotarlo al libraccio, però me l'hanno subito recuperato. Due parole sui primi due. Facciamo sul secondo, che è quello che ho amato di più. Questo, secondo me, è bellissima la figura di questa neve, che è un bel personaggio, secondo me è molto ben costruito. E poi tutta la parte dell'architettura di Porta Venezia, perché questa neve abitava con la famiglia nella Torre Rasini, per cui... Aiuto, qual è? È la torre che è sui giardini di Porta Venezia, all'angolo con Corso Venezia. Architetti, Gioponti, Emilio Lancio. Ah, ok, Urca. Eh sì, quindi lui... Lato osservatorio astronomico, lato... Sì, sì, prima, angolo con Corso Venezia. Angolo con Corso Venezia. E quindi è ambientata... Vabbè, ci sono degli episodi ambientati all'interno del parco e anche questo è un giallo molto ben costruito, che ti lascia la suspense fino alla fine. C'hai fatto caso? Adesso lo chiediamo a Biagini. È l'unico con la costa gialla. Gli altri sono tutti becco di papero. Questa è gialla. Ah, questo non l'ho mai notato. Chissà se... Forse la storia è un po' più gialla delle altre. Chissà se il pantone è evoluto. O si è un po' scolorito, chi lo sa. No, no, direi, guarda, direi di no, perché lo è anche all'interno. Ok. Invece il rumeno di Porta Venezia è il preferito del mio collega. Anche questa è una bellissima storia. Quel tuo collega che conosco anch'io? Sì. Attenzione. Ah no, perché noi abbiamo, siamo una schiera di lettori affezionati, devo dire. Io ho divulgato il verbo, sinceramente. Io divulgo i complementi e il resto ce lo mette Biagini. Esatto. Con la morte a Porta Venezia, secondo me, sei venuto qui. No, forse sei venuto col cadavere. C'è un cadavere sui bastoni di Porta Venezia, sì. Anche perché la morte a Porta Venezia era proprio il periodo del lockdown. Allora forse ce li avevi portati tutti e due, perché io questi li ho letti tutti e tre. Fin lì ci siamo. Chi non avesse visto la puntata YouTube risolto giallo, Mauro Biaggini, arriviamo al petit piccolino. Quando è uscito? Il nuovo è uscito a ottobre del 2023, la sconosciuta di Porta Venezia. E sempre di più i confini tra fantasia e realtà si fanno labili, perché in verità la prima vittima della sconosciuta di Porta Venezia, per esempio, è una persona esistente, con tanto di nome e cognome. L'aveva detto e l'ha fatto. Sì. Si è prestato al gioco. Molta della sua vita è reale. Era presente, no? Era presente alla... Si viene, è bello avere la vittima in presentazione, è sempre molto divertente. E in questo caso, naturalmente, Porta Venezia è sempre la stessa, con tutte le piccole evoluzioni che man mano ogni anno il quartiere ci presenta. Ed è curioso quanto... Sì, si parlava della magliaia, ma un po' tutti i personaggi all'interno dei miei gialli esistono, perché comunque nascono... Vabbè, nel caso di Maurizio Del Fa, che è la prima vittima, nasce dal fatto che è una persona, è un agente immobiliare del lusso, con una vita estremamente interessante, quindi ero molto incuriosito. Io ho chiesto poi il favore di firmarmi in una liberatoria, lasciandomi però libero di giocare come volevo con il suo personaggio, tant'è vero che muore al secondo capitolo. Però un po' tutti sono personaggi, appunto Elisabetta in fondo lo ha confermato anche dalla sua impressione, sono personaggi che poi esistono nella realtà, alcuni camuffati e altri con liberatoria personaggi reali. E questo perché mi piace tantissimo che nel giallo si respiri comunque, per chi conosce il quartiere, per chi non lo conosce, non c'è alcun problema, si respiri comunque anche un'aria di verità, che forse aumenta da una parte anche la suspense, perché poi comunque io sto disseminando di morti il nostro quartiere, per certi versi mi accorgo che questo può creare un po' di turbamento. Nota tecnica, anche in questo torni ad essere un mago del mistero della stanza chiusa, perché addirittura la magliaia me l'hai confinata concretamente, fisicamente, in una stanza. Con ciò si conferma quel tuo grande amore per Agatha Christie, che ci avevi già esternato la volta scorsa. E devo dire che cinque romanzi con questa metodica non è da tutti, perché francamente è veramente molto difficile se ci pensate rendere l'ambiente così asfittico, ma all'interno di tutto il plafond dei personaggi dare già subito, in pratica, non il nome, ma l'indizio per trovare il nome del responsabile. Pensi di farlo anche nei prossimi tuoi lavori o ti stai separando da questo? In verità, vabbè, io sono molto attratto dall'enigma della stanza chiusa e la mia ambientazione è molto circoscritta, perché poi comunque le mie storie si svolgono in un giro di strade piuttosto limitato, però l'ispirazione per me è enorme, a parte che ho la fortuna di ambientare le mie storie in un quartiere dove posso spaziare da classi sociali elevatissime a classi sociali più basse, quindi ho una varietà di personaggi esattamente come in un posto ben più grande di Porta Venezia. E poi comunque io ho proprio un'attrazione per una certa teatralità, no? delle storie e quindi mi piace molto anche ambientarle poi in interni, ci sono molti interni case, ho molta passione per l'arte, quindi dentro gli interni case vado a descrivere. Sinceramente però alcuni già me l'hanno chiesto, per me questo non è un limite, ma ogni volta, e ora lo sto facendo, sto scrivendo un nuovo romanzo, ogni volta che affronto una nuova storia io risetto il cervello, riparto da zero e mi auguro che non ci sia una ripetitività tra i gialli, ma del resto anche i grandissimi insomma lo hanno dimostrato, non so se pensiamo a Simenon, i Maigret non hanno mai degli spostamenti di luogo particolari, no? Sono sempre in zone piuttosto circoscritte ma questo nulla ha tolto alla sua creatività. Se poi per un abitante è piacevole riconoscere, per chi magari si è spostato e vive altrove, è interessante quando si ritrova lì, io per esempio ci sono tornata recentemente a fare un ortopanto che è una cosa stranissima, sì infatti volevano capire come sono impiantati i miei denti nelle ossa, allora devi fare questa ortopanto cosa e sono venuta a Porta Venezia, mi veniva da ridere, mi veniva da ridere perché invece di cercare con Google Maps l'ortopantografo, andavo, ah la pizzeria, sì questa qua la pizzeria, senti Elisabetta, domanda pleonastica, ma perché, pleonastica perché io so la risposta, qual è il tuo rapporto con la lettura? Molto intenso, vorrei avere più tempo per leggere, leggo di tutto, in realtà preferisco i gialli. La brava penalista. Sì no vabbè ma di tutto, cioè da Scerbanenco a Biagini che teniamo il filo conduttore Milano e vabbè caro figlio, anche Roversi che tra l'altro leggo con piacere. Sapete perché io so la risposta? Perché spesso noi ci incontriamo in tribunale che aspettiamo le udienze, siamo le uniche due col libro in mano, tutti gli altri spipolano, noi abbiamo la carta in mano e a volte anche l'evidenziatore. E il tuo rapporto con la lettura, visto che parliamo sempre della scrittura, con gli scrittori parliamo della lettura, ci hai spoilerato che tu vai a caccia di chicche, cosa leggi nel tuo libro? Io sono un lettore onnivoro, naturalmente leggo tantissimi gialli per piacere ma anche per tenermi aggiornato, dopodiché posso passare dai classici ad autori contemporanei, nuovi. Quando dico la ricerca delle chicche alle braccia è perché sono sicuramente molto legato alla letteratura anche italiana, novecentesca, quindi non so, da Bassani, Buzzati naturalmente. Tra l'altro possiamo rivelare che Elisabetta ha l'onore di vivere nella casa in cui abitò Dino Buzzati. Aspetta, non lo sapevo, ti possiamo ancora dare del tuo? Ma dai, dove lui ha ambientato anche... Dove ho ambientato infatti parte di alcuni romanzi. Sì, perché è una casa molto importante. Poi questa suggestione per me della presenza di Dino Buzzati alla macchina da scrivere... Ma tu sai anche qual era l'appartamento? Non ve lo dicono? No. Non vogliono pagare le spese condominiali più alte? No, non ho mai chiesto in realtà. Vabbè, adesso in missione dalla Portinaia. Se no lo fai fare a lui, che tanto lui spruglia nel quartiere. Ma sì, credo di saperlo, però poi, insomma, adesso ne parliamo poi. Ma che bello! Andremo in pellegrinaggio. Beh, ma c'è la targa fuori? Sì, c'è la targa. E quindi ho un rapporto con la lettura da grande lettore. Leggo un po' di tutto, ecco, posso... Ma dove trovi il tempo, perdona? Perché io e lei ce lo ritagliamo le pause, l'attesa delle udienze, che spesso è lunghissima. Poi entriamo in aula e facciamo altro. Ma tu, insomma, immagino che nelle pause tu scriva. Beh, io leggo anche nei periodi in cui sto scrivendo un romanzo. Perché secondo me è molto importante continuare a leggere. Ti dà il ritmo e non ti fa chiudere nel tuo mondo ego riferito. Non si tratta di leggere gialli, per me. Proprio si tratta di continuare a leggere qualcosa di autori che scrivono bene. E questo ti aiuta sempre a cercare di eguagliarli. Hai una domanda da fare, Biacini? Tema libero. Tema libero. Ma io sono incuriosita dal punto come lui trova le sue fonti di ispirazione, come costruisce i suoi personaggi. Cioè, a parte la magliaia Delia, che... Vabbè, però anche quelli minori, se vogliamo. Cioè, questo, a parte... È questo che mi interessa. Come li caratterizza e qual è la fonte di ispirazione? Partendo alla base dell'idea del romanzo, io parto il più delle volte da un tema che mi interessa affrontare. Tu che mi hai dato il privilegio di leggere tutti i miei romanzi, lo sai, nel primo romanzo il tema era comunque collegato agli stranieri. e quindi certe persone che comunque dubitano sempre il loro comportamento, ai margini. Il secondo, la ragazza del Club 27, è nata proprio dall'idea della pecora nera di una famiglia ricchissima. Tutte le famiglie estremamente alto, borghesi... Se mi permetti, anche il problema della tossicodipendenza, secondo me è molto ben espresso e anche descritto, ed è veramente rispondente alla realtà, cioè anche per quella che è la mia esperienza, anche lavorativa. Lavorativa, eh? Lavorativa. Certo, certo. E quindi per me la tematica è in qualche modo importante, dopodiché immagino l'omicidio naturalmente, e quindi questo... E a differenza di altri autori, poi piano piano nella mia mente immagino anche di... l'assassino e il movente, perché comunque io amo mettermi a scrivere quando ho chiaro un po' tutto il plot. E i personaggi man mano mi arrivano invece dalla realtà. Anzi, Elisabetta, stai attenta. Eh, infatti... Perché secondo me, in questo che sto scrivendo... Potrei comparire. Secondo me, girando l'angolo... Ci incontriamo. C'è la penalista con la moto. C'è la penalista che già prima mi raccontava alcune cose interessanti, e quindi io nella mia mente ho già preso degli appunti. Immaginatevi che con Elisabetta ci conosciamo dall'inizio della pratica. che abbiamo addirittura studiato per l'esame di avvocato insieme. E quindi... Tantissimo tempo, veramente tantissimo tempo. Ci aspetta la tesi. No, quella non arriverà mai. Però ci siamo scontrate, siamo state avversarie una volta. Una sola volta. E sai che cosa è successo? Le ho mandato la foto l'altro giorno, perché è caduto proprio l'anniversario in questi giorni. Mi è caduto il microfono in un occhio. Non era ovviamente bello come questi di risolto giallo, quei gelatoni pesantissimi che abbiamo in tribunale. Lei stava parlando, lei era in piedi davanti al tribunale che parlava, e si è sentito proprio l'urlo. Ah, e lei? Cosa è successo? E io praticamente l'ha fermato l'asta degli occhiali. Con sto occhio... Siamo riusciti a sconvolgere quel presidente che di solito è tutta rigidona. Siamo riusciti a sconvolgere anche lei. Quindi per dire, io lei avversaria non la voglio mai più, perché soccombo fisicamente. Vi lascio chiacchierare di quello che volete nei due secondi che ci sono. Io prima volevo scusarmi con Elisabetta, se a volte girando per il quartiere lei mi vede un po' immerso, passeggiando col cagnolino all'interno di qualche meccanismo della storia, perché io approfitto tanto delle mie pause, delle mie passeggiate con il cane, proprio per collegare dei pezzi del romanzo che sto scrivendo. Infatti quando io ti vedo così non ti disturbo. No, anzi, fallo. Però certe volte poi addirittura mi prendo gli appunti al registratore vocale dicendo cose che se qualcuno mi ascolta sembrano quelle di un delinquente incallito, che sta progettando chissà quale. Il basista di qualche... Come prima cosa ti chiedo scusa per questo, e nel caso risvegliami tu quando mi incontri in quello stato di trans e ci andiamo a bere qualcosa insieme. No, anche ti ho visto in coda all'ufficio postale e ho evitato perché hai ripreso, cioè non so se dalla coda o dai tuoi pensieri. Sì, no, non progettavo una rapina nell'ufficio postale, però mi capita spesso, sì, di passeggiare. Dopodiché però il piacere di passeggiare per Porta Venezia, di incontrare facce, amiche e magari di andare a bere qualcosa, quindi pubblicamente la prossima volta andiamoci a bere qualcosa insieme. E dallo spritz di Biagini e la Seregni è tutto. Arrivederci e alla prossima puntata di Risolto Giallo. Ciao, grazie. Arrivederci, grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!